Una mostra fotografica e di materiale storico che ripercorre l'attività umanitaria della Croce Rossa nei conflitti armati fin dalla sua nascita nel 1864 in base alle convenzioni di Ginevra, ma che ricorda anche l'impegno in prima fila del corpo militare volontario nelle ormai sempre più frequenti calamità naturali, come l'ultima in ordine di tempo che ha flagellato la Romagna. Una settimana di eventi promossi dalla Croce Rossa italiana, comitato della Piana Pistoiese dal Centro Mobilitazione Tosco Emiliano all'interno del forum Banca Alta Toscana a Quarrata, che si chiuderà sabato 27 maggio alle 21.15 con il concerto della Banda del Corpo Militare della Croce Rossa italiana. La mostra quindi presenta questo cammino, soprattutto le missioni internazionali in situazioni di conflitto, che l'ha vista intervenire dalle guerre del 1870 fino a conflitti più recenti, come il Kosovo, l'Albania, l'Iraq, l'Afghanistan. Abbiamo collaborato molto attivamente nell'attivazione dell'Hub vaccinale, dove sia la Croce Rossa e la Misericordia insieme, e insieme a noi hanno organizzato, e insieme ovviamente alla Sanità Toscana, un Hub vaccinale da 10.000 vaccini. La Croce Rossa italiana, che è fondamentale, fa parte del cuore pulsante, cuore dell'associazionismo, del volontariato, che è la grande fortuna di tutti i sindaci, del sindaco di Uvarato a modo particolare, visto che siamo a Quarrata, e di tutti i cittadini, quindi un grandissimo ringraziamento va alla Croce Rossa e a tutto questo stupendo mondo del volontariato e dell'associazionismo.